ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi continuiamo con la saga del decluttering e oggi parleremo di rosette in stick matitoni ne ho un bel po devo dire poi facendo questo decluttering riesco a vedere proprio tutti 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 i prodotti e è un po difficile ve lo dico è un po difficile quindi avrei bisogno anche di un po di aiuto ma vediamo cosa ho combinato questa volta godetevi il video e noi ci vediamo come sempre alla fine ciao allora ciao a tutti ragazzi e ragazzi questo è un decluttering per quanto riguarda i rossetti ne ho un bel po ne ho altri messi qui di lato per prima cosa io vado a togliere quelli della mac che sono sia questi che questi bussolotti qua ve li metto qua allora questi non li toglierò sinceramente perché sono molto affezionata a questi rossetti della mac perché sono stati quelli che io desideravo e bramavo in assoluto ci sono alcuni in edizione limitata come questi questi qua quindi non non desidero toglierli né questi né questi non so se si vedono vedete tutti questi sono queste due confezioni non li toglierò perché a me piacciono tantissimo i rossetti della mac mi trovo benissimo a utilizzarli anche adesso quindi finalmente il fatto delle mascherine si è tolto quindi li posso utilizzare comunque quindi questi li tolgo perché sinceramente non farò il decluttering di questi allora adesso iniziamo e vediamo cosa tenere cosa eliminare allora in questo lato metterò le cose da cestinare quindi da buttare e in questo lato metterò le cose da regalare sinceramente non farò tantissimi swatch perché vedete che sono tantissimi e non voglio fare un video lungo perché vorrei proprio sbrigarmi in questo contenitore invece metterò le cose che voglio tenere quindi i rossetti che tengo in assoluto allora sono molto affezionata ad alcuni rossetti quindi non vi faccio le solite premesse quello che tengo lo tengo perché lo voglio tenere tutto il resto lo darò volentieri allora iniziamo con i rossetti della milani questo è il 64 met orchid è questo colore se non mi sbaglio io lo devo avere di un altro questo anzi è quello che fa profumo c'è l'altro colorazione che fanno un profumo che a me dà fastidio mi sbaglio questo io ce l'ho anche della mulac adesso vedo in caso verrò di cambiarlo lo metto qui di lato allora rossetti di huda beauty e li tengo tutti perché mi piacciono tantissimo se volete un video soltanto con i rossetti di huda beauty io quello che vedo tolgo ecco qui qui ne vedo quattro questi li tengo mi piacciono tantissimo se volete un video apposito ve lo faccio anche per quelli che riguarda la mac poi qui abbiamo due di make up the light mi piacciono tantissimo li ho presi molto molto volentieri vi ripeto non faccio gli swatch perché guardate questo si è anche tolto la custodia comunque non faccio gli swatch perché questo ovvio li tengo ma anche perché ho un affezione sono affezionata a make up the light visto che anche lei siciliana quindi questi li tengo poi qui vedo uno di essence della anche qui ce n'è altri sparsi sì sicuro questi sono quelli della essence per quanto riguarda le principesse quindi li tengo sono più un tipo un balsamo labbra non è proprio un rossetto vero e proprio e quindi questi li tengo assolutamente poi se ne vedo altri li tengo ugualmente poi uno che guardo qui è quello di tarte questo è sempre una specie di balsamo labbra colorato mi è stato regalato da sabrina bambi quindi lo tengo molto volentieri poi andiamo a kiko kiko questo è un'edizione mamma mia si è squagliato e questo è un nude devo vedere se ce l'ho uguale perché se non mi sbaglio uno nude di questo genere ce lo metto qui di lato in caso lo tolgo un altro di kiko spero che si veda tutto bene lo svociamo questo è sheer io non cerco di non mettere questi rossetti con questa diciamo modalità perché sono troppo sheer e avendo le pieghe sulle labbra se ne va sparso chissà dove quindi lo regalerò poi questi sono rossetti di sephora mi piacciono tantissimo questi rossetti purtroppo non non abbiamo avuto la possibilità di indossarli ma a me piacciono e quindi li tengo anzi se li vedo li tolgo tutti direttamente ecco qui c'è un altro anche di questi vedete c'erano diversi e che non li vedo tutti comunque se volete un video apposito eccolo qui un altro se volete un video apposito anche per quelle di sephora scrivetemi perché ve lo metto ve lo faccio poi qui c'è un altro bullet di huda beauty vediamo diamo ecco qui ce n'è un altro altri due di huda beauty quindi li tengo poi milani vediamo se questo quello che fa sì questo fa un odore di caramello e anche se mi piace il colore veramente è molto bello il colore ma sinceramente questo odore di caramello mi dà troppo fastidio quindi lo regalo poi wet and wild wet and wild l'ho utilizzati pochissimi perché veramente poi non abbiamo avuto la possibilità ma a me piacciono tanto e quindi lo tengo poi clio makeup aspettate che li trovo quasi tutti almeno qui ce ne sono tre li tengo perché sono nuove quindi ovvio che li devo tenere scusate se ve li faccio vedere al contrario ma sono girata dall'altro lato quindi ok poi questi due sono in edizione limitata e sinceramente sono dei rossetti che non nemmeno utilizzato soltanto sbocciato ma per trovarli mi sono cioè ho girato tutta catania per trovare questi rossetti della debora e sinceramente siccome sono stati i primi acquisti proprio di quelli belli succosi che ogni volta che dicevano che c'è un rossetto particolare tutte andavamo a correre per trovare questo rossetto quindi questo mi fa ricordare queste questa situazione quindi questo ovviamente li tengo per collezionismo qui c'è un altro di eri chioba di eri chioba ce ne dovrei avere altri a me piacciono tantissimo sono gli ultimi che ho acquistato quindi lo tengo molto molto volentieri poi qui c'è uno della revlon non mi sbaglio era di una beauty box e questo sicuramente o lo regalerò o lo venderò su vintage quindi trovate tutto su vintage trovate tutte le cose che mi riguardano poi questo è un altro rossetto che mi è stato regalato da una ragazza era mi piaceva sinceramente questo rossetto questo qui ma ne ho altri di diverse marche quindi questo lo regalo poi vedete qui un altro di clio se volete un video ve lo faccio tranquilli poi abbiamo un altro di chico io sboccerò qualcosa per capire quello che mi piace questo mi piaceva tantissimo quindi lo tengo assolutamente poi c'è un altro di revolution che mi piace tantissimo e questo è un'edizione limitata con il teschio vediamo se riusciamo a vedere il teschio vedete bellissimo quindi lo tengo mi piace tantissimo questo rossetto anche come formula poi abbiamo questo qui di julia's place che ovviamente lo tengo perché non sono riuscita ancora a utilizzarlo perché per via delle mascherine quindi ovvio lo tengo poi qui vedo uno di nabla e ce ne dovrebbero essere anche altri a me piacciono tantissimo non mi potete dire niente su questi rossetti perché io li adoro li utilizzo e la scrivenza è ottima ottima ci sono sia questi che gli altri li utilizzo non mi hanno fatto nessun difetto sulle labbra quindi li tengo poi c'è questo di line crime ovviamente è unico figlio unico come si dice qui in sicilia è figlio unico di madre vedo no vabbè si dice che è figlio unico quindi lo tengo molto molto volentieri poi andiamo avanti qui c'è un altro di nabla anche se volete per i rossetti di nabla che ne ho abbastanza vi faccio un visito un visito sì un video apposito perché io adoro i rossetti della nabla ve lo dico proprio così apertamente così veloce veloce poi abbiamo un rossetto di debora fulli quindi lo tengo perché uno soltanto del colore che a me piace tantissimo poi se volete swatch ditemelo che ve li faccio allora sto vedendo qui i rossetti di nabla cercherò di prenderli tutti vediamo sono un bel po quindi se volete un video ditemelo ok se mi sbaglio sono questi va bene aspettate che mi pulisco un pochettino perché nella parte interna quelli che ovviamente ho messo di lato io li li testerò se mi piacciono adesso sulle mie labbra se no li tolgo poi andiamo avanti c'è ancora un altro delle principesse se mi sbaglio è l'ultimo no ce n'è un altro no questo non è delle principesse questo qual è è di catrice a si si è delle degli animaletti lì dei cagnolini questa è una forma di collezionismo non li utilizzo questi poi ce n'ho altri due per quanto riguarda nabla sono di questa collezione non mi ricordo e sono i colori che io utilizzo non so se farvi gli swatch di tutti questi rossetti perché sono uno più bello dell'altro e sono matte e hanno una scrivenza ottima a me piacciono veramente tanto io per non farvi perdere tempo cercherò di fare piano piano allora questo è un rossetto di linda hash se non mi sbaglio mi piace tantissimo perché questo colore molto molto vibrante punto ovviamente sbagliato comunque molto molto vibrante mi piace tantissimo come colore e devo testare la tenuta sinceramente poi un altro di uda beauty quindi lo teniamo ovviamente poi milani milani questo è un altro dei rossetti son mi sbaglio questo assomiglia a uno di mulac che mi piace di più e quindi questo lo regalo poi andiamo avanti questo è quello di kiko ed è in questa colorazione mi piaceva tantissimo il bullet sinceramente e il colore è questo è leggermente morbidino lo metto in stand by vediamo se lo riesco a utilizzare se non lo regalo anche questo poi questo è sempre di kiko in edizione limitata con il cuore questo lo tengo soltanto per il packaging sinceramente infatti lo metterò soltanto esposto poi gerard cosmetics uno soltanto ne ho e mi piace tantissimo perché il colore che mi piace vedete non è che mi piacciono colori strani ma poi questo è di webo se non mi sbaglio mi piaceva perché questo l'ho trovato si è un nude che utilizzo con matite molte più scure quindi questa lo tengo anzi se c'era questo il colore che dovevo confrontare no no è diverso che questo lo teniamo sempre in stand by allora un altro è quello di jeffree star mi piace l'ho presa apposta è un colore molto particolare perché se io penso a jeffree star penso a cose particolari quindi questo è un colore molto particolare ma mi piace di più il pack poi qui abbiamo allora questo è quello di revolution mi piace anche se il bullet sia un po incastrato questo colore mi piace ed è un il colore proprio delle mie labbra mi piace mi piace tantissimo l'ho utilizzato un bel po in qualche video ma poi mi sono persa strada facendo allora qui vedo quelli della mulac e se non mi sbaglio tengo tutto si guardate i rossetti mi piace tantissimo queste qui il mio preferito queste qui scrivono tantissimo anche se vedete hanno queste cose ma è perché sentono caldo sentono freddo automaticamente ma la scrivenza è ottima quindi questo lo tengo sono mi sbaglio c'era qualcosa in edizione limitata che non mi piaceva questo nude e lo tengo era questo allora questo colore lo metterò in stand by perché sincera mi piace questo colore mi piace però non sono su cura cioè si vede vabbè si vede così ok questo colore mi piace lo metterò in stand by voglio essere sicura che lo utilizzo perché sennò lo regalo altri colori si questo nude lo tengo poi c'è un altro questo è quello che non tanto mi piace infatti anche come scrivenza non è male e questo qui sono leggermente secchi ma erano già secchi quando li ho comprati altri due di mulac questo ovvio che lo tengo vi faccio anche un video questo ad esempio mi piace ed è uguale a questo non mi sbaglio aspettate che lo proviamo allora questo e vedete come scrive a me piace tantissimo e questo è quello di milani vediamo se nella stessa gradazione no questo di milani è leggermente più scuro quindi lo tengo poi andiamo avanti visto che ho visto quelle di mulac facciamo questi questo è un aranciato mi piace tantissimo questo qui tanti altri non mi piacciono però questi sì mi piacciono a me io ve lo ripeto i ricetti di mulac mi strapiacciono questo è viki bellissimo aspettate ci assomiglia no ha una gradazione leggermente diversa voi non trovate questa leggermente diversa a me fanno morire cioè io quando vedo questi video così anche io dico sì sì proprio leggera leggera poi milani questo ha sempre quel quell'odore di caramello e no no già l'odore mi dà fastidio chico questo uno dei primi rossetti conquistato ho utilizzato questo rossetto un'infinità di volte e tutti i complimenti per questo rossetto quindi questo anche per ricordo ma lo devo tenere si ritengo molte cose per ricordo non fa niente rossetto di avon questo qui ed è molto sheer anche se mi piace come sta sulle labbra ma molto molto sheer quindi questo lo regalo debbora debbora numero 9 questi della debbora devo dire che mi piacciono tantissimo a me piacciono molto l'ho detto che sarebbe stata difficile e infatti è così allora altri mulac mentre li vedo li togliamo allora sì questo nude ed è il 24 io non so se ancora ci sono questi rossetti guardate che bello verde bellissimo poi abbiamo il 21 che questo è il 10 palp mamma mia sono bellissimi e non mi ricordo quando fu li ho sbocciati tutti ho fatto anche il video mi sono piaciuti tantissimo maybelline questo mi piace il colore che io adoro lo utilizzo spesso questo anche se è lucido questo qui ad esempio a confronte di tutti gli altri quello che mi sta meglio e quindi anche se è lucido con una matita riesco a utilizzarlo questo qui poi altri mulac vediamo il colore uno è questo e ci assomiglia a questo qua sopra quindi posso anche abbinarli assieme e questo il 47 allora questo era il 49 il 47 è leggermente più chiaro sì no a me piacciono questi colori non posso farci niente poi capita che guardando dei video dici ma perché non li togli li ho comprati io li scelgo io qui ho sicuramente utilizzato una matita un po più scura ma è bellissimo questo colore assomiglia a questo insomma oddio no lo tengo sono difficile per quando qui un altro di mulac di mulac scusate di nabla sono molto difficile per quanto riguarda il rossetto aspettate che tolgo questa ciotolina mi tolgo gli swash in poi andiamo avanti qui c'è un altro di uda beauty quindi lo tengo allora prendo questi qua di wet and wild perché di questa vorrò fare una palettina di questi rossetti perché sono i dupe di mac e questi li utilizzerò se devo truccare qualcuno ovviamente li utilizzerò perché li metterò nelle palettine così la prenderle con la bacchetta e utilizzarle sulle labbra delle clienti quindi questo li tolgo perché mi piacciono tantissimo e molti dicono che sono veramente dei dupe quindi li togliamo un altro di erichi oba questo è lo 03 sono bellissimi questi rossetti di erichi oba veramente mi piacciono tanto poi di nyx c'ho questi che poi c'era anche il full throttle che mi piacciono tantissimo ve li giro al contrario sono questi e questo è il mio preferito questo è il full throttle che mi piace tantissimo perché dura molto vi faccio vedere i colori di questo questo è anche bellissimo colore molto particolare aspettate perché guardate qualche colore sono particolare quindi mi piace proprio tenerli vedete belli 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 ve li consiglio questi poi se volete i numeri poi ve li dico poi andiamo avanti c'è quello di y con questi li devo sbocciare tutti perché ne ho alcuni poi li metterò qui poi ho trovato questo nella beauty box di picpanda ovvio nemmeno utilizzato o mio dio vabbè l'ho soltanto strofinato qua questo lo regalerò lo venderò non lo so perché assolutamente no poi c'è questa collezione di essence in questa diciamo palla di natale non so le colorazioni sinceramente l'avevo acquistata per regalarle ancora non l'ho regalata quindi questa la metterò di lato poi sefora rossetto rosso sigillato non mi ricordo se è stato nel calendario dell'avvento di sefaro quindi lo regalo poi vediamo quelli di milani così magari li sbocciamo e vediamo qualcosa che mi piace qualcosa no ok sono questi li sbocciamo e vediamo quale mi piace e quale no questo mi piace quindi lo tengo ed è la colorazione 65 questo è il 61 è quello che a me piace tantissimo ed è questo lo tengo anche questo poi abbiamo un rosellino 62 matt di questi non ne sto mettendo tantissimi però lo tengo perché forse c'è solo questo di questo devo controllare e poi c'è il 19 raspberry che è quello della profumazione che a me dà fastidio ed è questo quindi lo regalo inutile tenerlo ancora poi allora facciamo che abbiamo questi della slick questi della slick mi sono piaciuti l'ho utilizzati e l'ho utilizzati per un evento se non mi sbaglio e sono rimasti lì dove l'avevo messi e ho utilizzato questo qui scuro questo ancora non l'ho utilizzato quindi lo tengo e anche questo era questo è quello che ho utilizzato questo qui cioè io adoro questo tipo di colore quindi questo poi facciamo così di avon 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 così magari mi faccio un'idea di quello che c'è allora questo è un altro di wet and wild quindi prendo diavon dove sono gli altri diavon un altro di eric ioba questo qui molto bello quindi si tiene un altro di nabla poi c'è quello di chi e di clio come sbaglio abbassa si sono mi sbaglio basta che ritengo a c'era un altro vabbè qui sbucano tipo come tanti funghetti un altro di uta beauty e un altro di mulac bellissimo questo chiaretto quindi abbiamo detto avon vedete qualcosa di avono perché non mi dite niente ho messo la hai messo la no diavon forse no qui c'è un altro di wet and wild qui un altro di wet and wild oddio basta un altro di nabla questi mi piacciono molto vedete questo colore bellissimo quindi sono questi diavon rispondete rispondete se trovate altri ditemelo ok diavon solo soltanto questi tre e guardiamo quale suono c'è questo colore che è simile no leggermente più rosa poi abbiamo questo che quello che mi piaceva se questo mi piace di più di questo e poi c'è questo che forse è simile a questo ma l'ho tolto questi ritengo due di lavon li devo tenere poi andiamo con pupa 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 quelli di pupa mi piacciono perché le ho utilizzate anche altre volte mi sono sempre piaciuti pupa forse abbiamo soltanto questi tre allora c'è questo quindi astra che lui l'unico che ho non lo so sì vabbè un nude di astra uno soltanto lo dobbiamo avere poi qui abbiamo tantissimo di essence di vari brand e senza dico in guai con ok questi sono a questo un altro che avevo trovato di questo colore fucsia che lo regalo o lo vendo poi abbiamo quello di i am pupa che questo qui ed è questo rosso e vi dico la sincera pura verità non l'ho mai utilizzato quindi lo posso mettere nei stand by se non lo metto lo cestino questi invece li ho utilizzati questi con la forma a goccia non so se l'avete visti mai e sono questi vabbè questo mi piace di più dai di quello i am pupa quindi togliamo e poi c'è quest'altro anche questa forma di goccia e anche questo utilizzato questo è leggermente più fucsia poi andiamo con essence 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 qui sono molto affezionata perché sono stati i primi 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 rossetti acquistati di essence e mi piacciono tantissimo sono tutti i colori che io di norma utilizzo vedete queste nude un po più particolare vedete questi sono colori che io utilizzo anche questo qui mi piace tantissimo tantissimo guardate che fucsia che c'è qui bello bello questi sono gli ultimi che ho preso questo colore molto bello molto bello se volete un video ditemelo che lo facciamo cioè che lo faccio voi lo guardate questo è un po più rosa questi li tengo tutti perché mi piacciono tantissimo sono uno più bello dell'altro oltre ad avere un ricordo hanno ancora un'ottima ottima scrivenza ve li sto facendo vedere proprio per farvi una panoramica dei rossetti sicuramente saranno simili ad altri questo ad esempio non l'ho utilizzato questo lo tengo in stand by perché non è stato utilizzato e quello del calendario dell'avvento questo lo metto di lato se non lo utilizzo entro diciamo un paio di mesi lo cestino pulisco e andiamo avanti quindi questi li teniamo poi andiamo con catrice 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 sono solo questi tre di catrice si no no questo è wicon allora di catrice abbiamo questi e sono tutti dei dei colori che utilizzo poi di catrice se devo fare un video mi servono poi c'è questo che è quello che avevo preso per ultimo ed è questo colore mi piace tantissimo e lo utilizzo tipo come se fosse un balsamo labbra non proprio un rossetto e poi c'è questo sempre di catrice molto molto bello questo lo utilizzavo con una matita scura e mi piaceva tantissimo come effetto e a calamite questi ancora li tengo poi abbiamo un altro di nyx rimmel e le splash maybelline debora l'oreal aspettate che li posiziono qua così rimaniamo con soltanto quelli comprati ultimamente sono questi sono questi se non mi sbaglio perché qui abbiamo Kiko e NYX allora per quanto riguarda Deborah abbiamo questi e mi piacciono tantissimo li ho utilizzati infatti se li vedete un pochettino sporchi questo forse soltanto una volta un pochettino sporchi sono perché sono stati utilizzati e quindi li tengo ancora se riesco anche a chiudere poi questo di NYX è uno degli ultimi acquistati è uno degli ultimi e lo metterò in stand by perché tanto tanto non è che mi sono trovata bene con questo rossetto quindi lo metterò in stand by questo è quello di L'oreal non mi ricordo dove l'ho preso se mi sbaglio da Lettenapolis ed è leggermente sheer ma non mi piace vaga in giro se ne va per strada non mi piace questi due di rimmel mi piacciono tantissimo vediamo le colorazioni questi due mi piacciono tanto li ho utilizzati li do la possibilità di essere utilizzati se non li utilizzo cestinati uno è le splash ovviamente me lo tengo perché avendone uno soltanto lo teniamo ed è questo nude come tanti altri però lo teniamo perché non solo uno di questo quello di NYX è questo qui l'ho utilizzato soltanto una volta mi piace perché è proprio matto sulle labbra e come tenuta mi è piaciuta però ovviamente lo proverò questi sono i miei preferiti il numero 15 è il mio preferito in assoluto ed è solito malva leggermente più scuro che tengo ovviamente e il numero 10 è sempre un nude malva che a me piace leggermente più rosato questi sono i colori che a me stanno benissimo senza offesa poi abbiamo Kiko e Wicon allora mettiamo qui Kiko 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 Wicon Kiko Kiko Wicon 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 aspettate metto così alzate Wicon Wicon questi sono gli ultimi che ho acquistato Wicon 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 questi sono veramente gli ulteriori ah qui c'è un altro di Catrice Wicon questo Kiko allora un altro di Deborah i soliti colorini che piacciono a me e questo ancora lo tengo poi proverò a utilizzarlo se no va via anche questo e poi un altro di Catrice questo è a lunga tenuta infatti vedete già è stato utilizzato guardate la differenza è a lunga tenuta veramente ed è un nude poi li dividerò con i nude li sistemerò in modo che siano più facile a utilizzarli questi di Wicon sono gli ultimi che ho acquistato li faremo dopo allora Kiko questa è un edizione limitata se non mi sbaglio si l'ho utilizzato ma non mi è piaciuto cioè nel senso non l'ho ricercato più aspettate che tolgo questi così riesco a fare il video cioè mi sboccio allora andiamo avanti Kiko questa era in edizione limitata questa qui era in edizione limitata il colore è questo facciamo così gli sbocciamo e vediamo quello che mi piace e quello no questo è il mio preferito è il 13 assolutamente non lo tolgo ed è il malva che mi piace quindi questo già lo conservo questo è un altro ed è lo 03 sempre della stessa linea lo sboccio qua poi abbiamo il Kiss Balm ah no questo è un balsamo labbra lo metto da da un'altra parte poi abbiamo exotic sempre un rosso bellissimo poi abbiamo quest'altro un po' più scuro questo mi piace tantissimo questo è già a prescindere lo tolgo vabbè no non sono brava a a scegliere aiutatemi aiutatemi questo è forse un po' più fucsia sì tipo come questo allora cos'era il primo che abbiamo provato aspettate vediamo se sì sì questi due sono leggermente uguali quindi questo lo tolgo e questo che è leggermente più matt lo tengo quindi questo lo tolgo questi due li tengo dico sono stata brava aiutatemi allora andiamo con Wicon per quanto riguarda Wicon sono gli ultimi presi perché gli altri già li avevo cestinati li avevo regalati allora quelli precedenti erano questi questo è quello di Maleficent se non mi sbaglio comunque era questo colore blu particolarissimo quindi lo tengo ovvio e poi c'era questo colore che aveva fatto vedere sempre Deborah Fully che era il colore che lo identificava infatti mi piace tantissimo anche questo quindi questi li tengo poi quelli più vecchiotti sono questi perché la forma è diversa poi tutti gli altri sono della stessa sì allora quelli più vecchiotti sono questi e sbocciamo aspettate che sennò mi viene male metto la mano qui ok questo e mi piace andiamo con questo e mi piace oddio sono sono malata poi c'è questo e mi piace pure quindi questi tre già ve lo dico subito ciao poi andiamo avanti questi sono quelli presi ultimamente infatti se vedete la forma tranne questo se non mi sbaglio sono tutti quelli che ho preso ultimamente ed è questo colore che mi piace poi abbiamo questo che è il numero 034 m e mi piace pure poi abbiamo questo nude bello no vabbè questi sono gli ultimi quindi li ho presi perché mi piacevano quest'altro bellissimo li devo utilizzare ruota li dovrò utilizzare guardate questi sono simili ai powder kiss di mac cioè dai potete togliere no allora ve li faccio vedere veloce veloce quest'altro che è un nude marroncino non mi vedete mai questi colori leggermente più scuri ma mi serve perché è l'unico che ho poi andiamo avanti questo colore leggermente più rosso vedete poi questo questo forse forse questo forse forse vediamo aspettate forse quello più scuro pure vediamo dai devo togliere qualcosa no questo no questo mi piace poi questo qui no questo pure mi piace aiutatemi e questo qua no vedi questi sono proprio i colori nude che io adoro no allora dai dobbiamo decidere questo marroncino non ne ho un altro quindi forse tra questo allora il marroncino più scuro è questo sì questo è il marroncino più scuro e quindi lo togliamo poi abbiamo questi due dai vediamo tra questo e questo vabbè chiamerli te no non posso perché sono gli ultimi che ho preso e per prenderli vuol dire che mi piacevano quindi anche gli altri giusto però e questi sono tutti quelli che io tengo allora questi sono quelli che regalo o venderò su Vinted ovviamente ne ho buttato nemmeno uno perché sinceramente erano ottimi anche come rossetti e tutto quindi non mi interessava diciamo cestinarli e questi sono per quanto riguarda i rossetti in stick allora questi sono i rossetti in matitone e in stick che posseggo ho fatto qui i rossetti e in questo metterò le cose che venderò che toglierò direttamente adesso la metto qui qui ho messo tutti i matitoni matite che non ho messo negli altri video perché le ho ripescati dopo quindi li toglieremo adesso allora prima di tutto toglierò le matite di color pop che sono queste ovviamente sono associate alle loro ai loro rossetti che sono questi se volete un video apposito ditemelo che lo facciamo ovviamente lo tolgo perché non voglio fare un video lungo come sto facendo e quindi cercherò di togliere le cose che tengo ovviamente perché sono tutte le matite sono abbinate ai rossetti quindi questi li tolgo a prescindere come tolgo a prescindere le matite di Uda Beauty queste perché sono sempre uguale ai rossetti quindi tolgo le matite queste sono quelle delle labbra le labbra della confezione io le ho tolte le ho messe così le utilizzo anche più volentieri poi andiamo avanti qui è molto più difficile per quanto riguarda matite ho questa di Wet n Wild e mi piace molto il colore quindi ovvio la tengo poi come matite ho queste qui di scusate le ho passato la salviettina ho queste qui di Wicon sono solo due sì forse perché le altre già le ho cestinate sono queste queste è un rosso e poi c'è questa che è un fucsia molto più particolare queste sinceramente non le utilizzo più quindi li regalo sempre come matitone ci sono questi di Kiko e questi invece li ho utilizzati tutti mi piacciono tutti perché sono dei colori nude ve li faccio vedere questi li ho utilizzati anche questo colore ho utilizzato sulle labbra e sinceramente mi piacciono anche questo l'ho utilizzato e niente che dirvi mi piacciono e quindi questi li tengo l'ultimo e sono tutti questi mi piacciono veramente li utilizzo sempre e quindi li tengo poi un altro che mi piace questo è l'unico che posseggo è quello di rude cosmetics mi piace tantissimo perché è uno dei colori che a me sta meglio e questo essendo come un matitone lo metto in borsa e lo riesco a utilizzare anche quando suono fuori stessa identica cosa è questo qui di elf mio amore ne ho altri tre confezionati di questo ovviamente prima cerco di finire questo poi utilizzerò gli altri bellissimo sta bene sulle mie labbra lo porto dappertutto quindi ottimo poi sempre matitoni abbiamo questo e questo e questo ah un altro di wicon ed è questo fucsia anche questo sinceramente non lo utilizzo e poi c'è questo qui di kiko che è quello che mi piace di più perché è un fucsia ma base fredda e mi piace e poi ho questo qui di debora questo colore scuro l'ho utilizzato in estate devo essere sincera in estate ma poi non l'ho utilizzato più non so se utilizzarlo ancora oppure no ma credo che lo cestinerò poi matitoni di kiko di wicon scusate questi mi sono piaciuti tantissimo li ho utilizzati tantissimo e li continuo a utilizzare vedete sono dei matitoni ottimi ancora scrivono e quindi li tengo ne avevo preso altri gli altri li ho già regalati e questi me li tengo questi li metterò nelle cose da trattare poi questi due di kiko sono in edizione limitata furono in edizione limitata ed era questo colore che è già cestino che è cestino e questo rosso che è quello che durava di più diciamo degli altri e assomiglia molto alla matita che ho regalato e quindi regaliamo anche questo poi per quanto riguarda i melt che sono questi a me piacciono tantissimo li ho utilizzati tantissimo questo l'ho utilizzato pure specialmente in estate quindi questi li tengo sono quelli con diciamo l'applicatore così in spugnetta mi sono piaciuti e quindi ancora li tengo altrettanto questo qui di NYX ha sempre il push qui e quindi anche questo lo tengo questo è uno scrub labbra questo lo regalo poi questo rossetto di Kiko mi è piaciuto tantissimo è sempre in edizione limitata mi è piaciuto veramente tanto questo e questo lo tengo mi piace poi questi qua io li tengo in borsetta e mi piacciono di più sapete quando oddio ci dobbiamo mettere il rossetto aprite questo perché è molto molto bello poi questo di Kiko attrettanto molto molto bello questo l'ho soltanto swatchato non l'ho utilizzato perché poi c'è il fatto delle mascherine quindi pace amen poi questo qui che è di Deborah sinceramente mi piace perché il colore è molto bello perché è sempre un fucsia freddo ma devo essere sincera non l'ho utilizzato quindi cercherò di utilizzarlo se non ciao poi due di Maybelline giusto il super stay di Maybelline sì e sono queste due colorazioni acquistati proprio recentemente uno è questo marroncino proprio marroncino e così non ce l'ho e poi c'è questo leggermente più rosato che questo è il colore che invece io utilizzo e quindi questi due li tengo poi abbiamo una matita che è sempre quel rosso uguale al rossetto che avete visto in un altro video in questo non lo so questo e ovviamente io non la utilizzo quindi la regalo e poi abbiamo questo che è la stessa identica cosa perché l'ho trovata in due beauty box no beauty box come si chiama le box di pink panda e sono tutte due uguali quindi ovviamente mi tengo la mia swatchata che è questa con la matita in questione che è questa qui vedo di utilizzarla se non la utilizzo la cestina e questa la regalo quindi questo è tutto queste sono le cose che regalo per quanto riguarda i rossetti matita eccetera eccetera ebbene questo è stato il decluttering per quanto riguarda i rossetti stick è una cruccia lo so ho tolto qualcosa non ho tolto qualcosa beh siete stati attenti ma insomma vi ho visto poco attenti comunque per quanto riguarda il decluttering come vi ho detto negli altri video non vi preoccupate sul mio profilo vintage troverete tutto quello che metterò in vendita alcune cose le regalerò così però metto tutto su vintage metto anche abbigliamento scarpe borse comunque c'è un po' di tutto se volete andate a vedere lì per quanto riguarda questo video è tutto io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va non ci vediamo al prossimo video ciao ciao